Dalle buonasera un lampo che purtroppo non è bastato. C'è rammarico per come è andata la partita. C'è rammarico soprattutto per il pareggio perché l'abbiamo preso in un modo strano. Eravamo convinti di averla già vinta la partita e quindi c'è grande rammarico. Però credo che oggi abbiamo fatto una grande prestazione. Questa è la cosa più importante. Adesso da un martedì si ricomincia a lavorare e cominciamo a preparare la partita di Gara. Il gol che hai realizzato nasce da Procema? No, questo è un movimento che faccio da tanti anni. Ogni tanto un po' di fortuna. Sì, abbiamo provato parecchie volte, però è un movimento che faccio da tanto. Era alla fine, quindi ho provato e è andata bene. Questa è la cosa più importante. Senti, durante la gara si è visto molto dialogo tra dieccatani e tra dieccatani, è mancato in la finale, un paio di volte, dovuto un po' forse anche alla lezione nel volere a tutti i corsi raggiungere il successo, oppure mancato qualcosa nel proprio in un attimo finale. Sicuramente oggi volevamo vincere a tutti i corsi, abbiamo fatto bene davanti, ma credo che anche dietro abbiamo fatto una buona partita tutti oggi. Siamo arrivati bene, davanti a Portiere ci è mancato quella cattiveria, forse quel poco di cinismo per fare golo, perché credo che il primo tempo soprattutto meritavamo di passare in vantaggio, invece è finita 0-0. Di questo continuo alternarsi sulla faccia, una volta sulla finestra, una volta sulla destra, alla fine si è andata anche a vicino almeno voi, perché ho visto nei primi 20-30 minuti che cambiava di continuazione. Perché ha altre difficoltà che... Noi, voglio dire, queste difficoltà che ha visto lei, noi sinceramente non le vediamo. Queste difficoltà che ha visto noi non le vediamo. Capita, non è una cosa provata, capita, è capitato due volte per esempio su dei calci piazzati, che ci sceglie da battere a destra, quindi io mi sono trovato a sinistra, sono ripartito e quindi è giusto che io rimango là. Era tutto là. Poi il tempo che si ferma all'azione ce li cambiamo. Può essere, può essere. L'attenzione della partita magari non ci faccio caso. Sì, abbiamo sbagliato la fase finale delle azioni. Io credo che comunque non è importante dove si fa l'azione a destra e a sinistra. L'importante è cercare di fare quello che ci chiede l'allenatore. Oggi ci siamo riusciti, ci è mancato solo il gollo, quindi per adesso va bene così.